Santa Giovanna Francesca Fremiot de Chantal nacque il 23 gennaio 1572 a Digione, in Francia, in una famiglia nobile. Era la figlia di Benigno Fremiot, presidente del Parlamento di Borgogna. La sua infanzia fu segnata da tragedie personali, in particolare dalla morte prematura della madre, che avvenne quando Giovanna aveva solo 18 mesi. Nel 1592 Giovanna sposò il barone Cristoforo de Chantal, un uomo devoto e amato. La coppia ebbe sei figli, di cui quattro sopravvissero all'infanzia. Giovanna era conosciuta per la sua carità, la devozione religiosa e l'amore per la sua famiglia. Tuttavia, la sua vita fu nuovamente segnata dal dolore quando suo marito morì in un incidente di caccia, lasciando la vedova a soli 29 anni. Dopo la morte del marito, Giovanna si dedicò completamente alla vita religiosa. Nel 1604 incontrò San Francesco di Sales, un incontro che cambiò la sua vita. Divenne sua guida spirituale e insieme fondarono l'Ordine della Visitazione di Santa Maria, a Annesi, in Savoia. L'Ordine era rivoluzionario per l'epoca, poiché permetteva alle donne che non potevano aderire agli ordini monastici tradizionali a causa della loro età o salute di vivere una vita consacrata. Aveva scelto in cuor suo di donarsi totalmente a Dio, tanto da incidersi il nome di Gesù sul petto con un ferro rovente. Non amava certo le mezze misure. Lo dimostra una delle sue frasi preferite. È troppo avaro il cuore cui Dio non basta, ed è miserabile il cuore che si accontenta di meno che di Dio. Poco prima di morire, sintetizzerà nel suo stile diretto e senza giri di parole l'insegnamento del Beato Padre, come lei amava chiamare il Santo Vescovo. Siate, mia cara figlia, come un recipiente vuoto davanti alla Divina Bontà per ricevere quel che a Lui piacerà di donarvi. Per il presente, siate fedele nel fare ciò che dovete e nel soffrire umilmente e senza mollezza ciò che Dio vi presenterà momento per momento. Visitazione L'ordine della visitazione aveva come scopo principale l'umiltà e la carità. Le suore visitandine erano dedicate alla preghiera e all'educazione, ma non vivevano in clausura stretta come altri ordini dell'epoca. Sotto la guida di Giovanna Francesca, l'ordine crebbe rapidamente, fondando numerosi conventi in tutta la Francia. Santa Giovanna Francesca di Chantal era conosciuta per la sua profonda umiltà e il suo amore per Dio. Credeva fermamente nell'importanza dell'abbandono totale alla volontà di Dio, un tema che emerge chiaramente nei suoi scritti spirituali. incoraggiava le sue consorelle a vivere una vita di semplicità, pazienza e amore, senza cercare i piaceri mondani. Una delle sue frasi più celebri è Il segreto della vera felicità è vivere momento per momento e ringraziare Dio per tutto ciò che manda nella sua bontà.